L'ex senatore abruzzese Antonio Razzi è tra i ballerini della prossima e imminente edizione di Ballando con le stelle, il talent condotto sul rei 1 da mili carnucci in cui si sfidano volti notti. Il senatore fiumitato della tv farà coppia con la ballerina insegnante siciliano Ornella Boccafoschi, che lo sta già coccolando e istruendo in sala prove. L'abruzzese Antonio darà sicuramente spettacolo e non tutti sanno che in gioventù, quando lavorava in Svizzera, è stato campione di rock and roll. Il senatore è impegnato a Roma tra prove e allenamenti, ma ha trovato il tempo per inviarci questo video. Cari amici di Rete 8 Abruzzo, vi presento il mio ballerino che quest'anno mi affiancherà Ballando con le stelle, un abruzzese doc, eccolo qui, Antonio Razzi. Vaila, ciao amici, cari, mi raccomando, dal 30 marzo seguiteci su Rai 1 e che col vostro voto possiamo arrivare fino al 31 maggio. Aspetto i vostri voti. Un bacio a tutti. Ciao. Si confermerà Razzi un ballerino coi baffi, staremo a vedere. Intanto è sotto pressione, le prove continuano e il 30 marzo ci sarà la prima puntata della trasmissione. In bocca al lupo, senatore, vive il lupo, ballerini provetti. Adesso sono Razzi vostri. Grazie. 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 Grazie.